Una squadra, la Roma, che è stata solida, ha fatto quello che fa sempre, corta, compatta, ha lasciato il pallino del gioco all'Inter il primo tempo, però poi è stata solida nel secondo tempo che ha trovato anche il secondo gol e ha meritato di vincere. Però il problema più grande in questo momento qua è l'Inter. L'Inter o si dà una sveglia oppure va a finire a rotoli, perché il Zaghi continua con gli alibi e le mie società, i miei giocatori, tutte sceneggiate, però poi alla conclusione devi vincere le partite e devi dare un segno, un'identità alla tua squadra, cosa che l'Inter in questo momento qua non ha. E mi preoccupa tanto questa situazione qua, perché ci sono dei giocatori che a malincuore bisogna fare delle scelte, andando vicino, li voglio bene, però devi fare una scelta. Skriniar, te lo tieni? E' questo Skriniar? Sì, no e non si sa. Il problema è in mezzo al campo, adesso sto ragazzino qua l'hanno buttato dentro che è molto forte, però lo vedi che è impaurito perché non gli dà fiducia in Zaghi. In più poi Gosens è un pesce fuor d'acqua, se non gli dai fiducia è normale che poi non ti danno niente e in Zaghi si deve svegliare, altrimenti non ti fonda. Grazie. 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 Grazie.